Io sono molto favorevolmente impressionato da alcuni interventi ricchi di dottrina che ci hanno aiutato a capire questa svolta storica del nostro Paese, dell'intervento su una materia così delicata come la nostra carta costruzionale. Probabilmente se invece di scomodare la dottrina mondiale su temi così importanti si fosse più stati con i piedi per terra, si sarebbe evitato di offrire a quest'Aula un testo che introduce un pericolosissimo vulnus costituzionale. Noi sappiamo che la primaria funzione del Parlamento è quella legislativa, ossia il fare le leggi. E la nostra Costituzione descrive un percorso dalla presentazione, l'ingresso di un testo, l'esame, la sua approvazione. Si interviene ora con il disegno di legge che ci è stato proposto, proprio su questo iter, prevedendo qualcosa di estremamente pericoloso, che bisogna assolutamente evitare. Perché? L'articolo 7 del disegno di legge recita, che modifica l'articolo 72 della Costituzione, recita I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti. Ed allora, questa è la fase che introduce il momento dell'esame del disegno di legge, ossia la fase dell'assegnazione, la più importante fase. Si prevede che la decisione dei Presidenti delle Camere, non sindacabile in alcuna sede, quindi potere assoluto, debba essere d'intesa. Ma se l'intesa non si raggiunge, il Parlamento incrocia le braccia in attesa della fumata bianca? Cioè, noi non possiamo prevedere un sistema costituzionale che contempli un vulnus radicale sulla funzione primaria del Parlamento. Perché potrebbe non raggiungersi l'intesa per i motivi più disparati. Ad esempio, per facilitare il percorso di decretazione del Governo. Per cui, paralizzare il Parlamento e portare avanti i decreti del Governo. Che ovviamente avranno una corsia privilegiata. Noi dobbiamo facilitare, essendo una democrazia parlamentare, dobbiamo facilitare il lavoro del Parlamento. Non prevedere il vulnus. Perché ci potrà essere un contrasto anche duro tra i due Presidenti, di Camera e Senato, che rivendicano alla propria Assemblea l'assegnazione di un disegno di legge. E si dice che nessun altro potere potrà intervenire. Perché comunque c'è l'insindacabilità. Ma l'insindacabilità della Stasi? È insindacabile la decisione se raggiunta. Ma una decisione non raggiunta. Come viene sanata? Da quale organo? Come si interviene per ridare il lavoro alle Assemblee? Noi dobbiamo scongiurare questo vulnus che afferisce alla fase più delicata del lavoro parlamentare, quello primario. E quindi la nostra attenzione è stata attirata da questo pericoloso intervento di riforma costituzionale e l'avevamo anche sollevato in sede di questione di costituzionalità, ossia di assenza di ragionevolezza. Però siamo stati accolti dal sarcasmo dei costituzionalisti che hanno parlato in quest'Aula. Ora i costituzionalisti che hanno parlato in quest'Aula o metteranno mano ad una modifica e allora vuol dire che un po' di sacenza in meno avrebbe garantito un prodotto migliore oppure insisteranno in una riforma nociva per il Paese. Così come, e ne faccio un breve accenno perché poi il tema sarà sviluppato successivamente, così come l'intervento che a questo punto sta diventando centrale nel dibattito, l'intervento emendativo del PDL con la proposta del semipresidenzialismo è un intervento che nasconde una parte essenziale della nostra Costituzione perché si è voluto ricopiare il modello francese, perché anche nel sistema francese è prevista questa disciplina, ossia quale? Che cosa si propone? Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro e dei Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri salvo delega al Primo Ministro. Questo è un tipo di riforma proposto che è mutuato dalla Costituzione francese del 1958 con una differenza sostanziale. La Costituzione francese non prevede quello che invece è prevista dalla nostra Costituzione all'articolo 95, ossia il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Punto. Altro periodo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Questa funzione costituzionale del mantenimento dell'unità di indirizzo politico non è contenuta nella Costituzione francese, è qualcosa che appartiene esclusivamente alla nostra Costituzione ed è rispetto all'indicazione di politica generale qualcosa di specifico e di eminentemente politico. Ora, il Presidente della Repubblica eletto a soffraggio diretto può essere espressione di una maggioranza politica diversa dalla maggioranza politica che elege il Governo. Può presiedere un Consiglio dei Ministri che ha tra le funzioni costituzionali quello di mantenere l'unità di indirizzo politico. Si creerebbe un conflitto perenne perché si potrebbe accusare colui che è chiamato a presiedere il Consiglio dei Ministri, ossia il Presidente della Repubblica, dei comportamenti ostili all'esercizio della funzione costituzionale del mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico. E quindi, con evocazione dell'articolo 90 della Costituzione, la messa in stato d'accusa per attentata ad una funzione costituzionale, ossia si possono anche prendere le esperienze, cogliere le esperienze agli altri Paesi, ma poi bisogna modularle sul nostro ordinamento costituzionale. Non basta ricopiare una norma, bisogna vedere se quella norma può conciliarsi con il nostro sistema. È un Presidente della Repubblica, eletto da una maggioranza politica diversa da quella che eletta il Governo, non può presiedere il Consiglio dei Ministri, che ha come fine anche il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico, l'indirizzo politico al quale è ostile quel Presidente della Repubblica che è stato eletto da altra maggioranza politica. Quindi amalgamate gli istituti, proponete di amalgamare, di modificare la nostra Costituzione, amalgamatela con i nostri principi. Diversamente diventa un'opera demolitoria e strumentale, finalizzata probabilmente a rendere complessa l'approvazione di questo disegno di leggi che doveva avere come obiettivo principale quella della riduzione dei parlamentari. Se non passa con il voto di due terze del Parlamento, si è costretti probabilmente ad andare al referendum confermativo e a quel punto si blocca tutta la legge e salta anche la riduzione dei parlamentari. Io temo che si stia facendo tutto questo per ottenere questo risultato, approvare una legge ma senza la maggioranza qualificata e quindi referendum confermativo e quindi alle prossime elezioni si andrebbe con l'attuale normativa costituzionale senza toccare il numero dei parlamentari neanche di un'unità. Questo è il rischio che io vedo in questa presa di posizione forte assunta dal PDL con l'emendamento che vuole introdurre il senso di presidenzialismo proprio fatto quasi apposta per ottenere i voti dei due terzi. E quello sarebbe il grimaldello per far esaltare tutto. Per cui la scelta sarebbe gatto pardesca. Aggettiamo tutto per non cambiare niente.